Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta vi ritrovate sul mio canale Vi ricordate che vi ho fatto vedere i primi tre numeri di Warhammer Conquest Che è quell'uscita settimanale Che è scenedicola, tra l'altro è molto bella, ci sta garbando da morire Che mi ero ripromesso di fare e avevo promesso di riportare altri video Poi dopo è passato un po' di tempo Perché noi se guardate il video l'abbiamo iniziato a fare più o meno un anno fa E la serie dopo i primi tre, quattro numeri è stata interrotta E ora Lachette l'ha ripresa e l'ha riportata in Italia E questa volta andrà fino alla fine Che dovrebbero essere, se non mi sbaglio, 80 numeri In descrizione trovate sempre tutti quanti i link, insomma, per informarvi e tutto E intanto ringrazio Lachette, veramente grazie di cuore ragazzi Per averci mandato, fornito il quarto numero E tra l'altro altre cose che ora poi vi faccio vedere con calma Che sono ad esempio l'endol per dipingere miniatura E ora ve le faccio vedere a parte Vi ricordo comunque per farvi una descrizione veloce Che a parte è scenedicola una volta a settimana E potete fare un abbonamento Abbonamento normale e abbonamento premium Che ovviamente quello premium vi manda la roba che ora vi mostrerò Più tantissime altre cose Per una cifra che va tipo per 5 euro o più Una cosa del genere Quindi un anime che dovete impazzire Ve li potete fare capitare direttamente a casa Quindi se fate l'abbonamento ve li porta il Corriere a casa Oppure vi affidate a un'edicola di fiducia Insomma un amico o qualcosa accanto E vi ricordo che Warhammer Conquest è un gioco di schermaglie Per quanto dopo 80 numeri vi sarete fatti un esercito completo Degli Ultramarine e un esercito completo di Nargol Completo con carri armati e tutto il resto Quindi ci potete andare a Johan in qualsiasi negozio per farvi capire Però più che altro Questo è un gioco di schermaglie Non è tanto un gioco fatto per eserciti Però più una specie di Ragazzi fra 5 virgolette Una specie di Mordheim ambientato nel futuro Nel Warhammer 40.000 E secondo me è molto interessante Soprattutto perché Nella collezione che sta uscendo in edicola Non solo ogni numero che esce Vi mettono magari in un numero elementi scenografici In un altro Ultramarine In un altro la Death Guard di Nargol E tante altre cose Ma vi ci mettono spesso pennelli Vi ci mettono colori Vi ci mettono lime Vi ci mettono tronchesine Vi ci mettono colle Vi ci mettono Sì ve l'ho detto anche elementi scenografici e altre cose Quindi numero dopo numero Andate a costruire una collezione che Uno lo fa per il gioco di Conquest Per il gioco di Schermaglie Un domani potrebbe dire Oh però sai che c'è Io in casa ho due eserciti Del 40.000 Mi viene voglia di andare a giocare in un negozio Tranquillamente lo posso fare Ed è veramente un bel gioco Interessante E vi faccio vedere un pochino insomma Le cose che ci sono arrivate Nel numero 4 ci sono 6 miniature Della fanteria Ovviamente di Nargol Del 40.000 Le basi Che un po' tra l'altro belline L'hanno fatta anche in castro Ragazzi vi consiglio sempre Un pelo di colla di mettercelo Perché reggono meglio Non sia mai si rompe un dentino Cosa del genere Però se non avete la colla Direttamente vanno ad incastro Quindi non c'è problema Nei numeri precedenti C'erano anche i pennellini Qui c'è un colore Ovviamente per dipingerli E la cosa bella È che a fine della collezione Vi sarete fatti anche un set Da 50-100 colori Quindi comunque Lo sappiamo bene Che quelli della GV Costano abbastanza Quindi miniature Nel numero 4 E poi ovviamente Il librettino Il fascicoletto Che vi racconta un po' La storia Di chi sono Vi fa vedere gli esempi Come montarli Gli esempi come colorarli Perché Nargol Poi è pustoloso È malato Quindi il colore Verte sempre un po' Sul verdognolo E poi insomma Vi fanno vedere tutto il resto Magari aggiungono regole nuove Questi sono tutti quanti Vedete come montarli Tutto quanto Come dipingerli Magari mettere gli shader Colore di base Colore finale E quant'altro Questi Fascicoletti qui Questi 80 fascicoletti Che sono uno Ogni numero Dovrete metterli dentro Un raccoglitore Un raccoglitore Che vi manderanno a casa Più vi arriverà anche L'artbook Vi arriverà anche il regolamento Vi arriverà una scatola alta Così dove dentro Mettere ovviamente Tutte quante le vostre miniature Di quelle belle imbottite Che insomma Anche per ulti e cose del genere Non si rompono Quindi dateci un'occhiata Io sicuramente Mi sono dimenticato qualcosa Per sapere meglio Le cose degli abbonamenti Primo link Che trovate in descrizione Andate sul sito E guardate direttamente Dalla chat Comunque Facendo l'abbonamento Che vi ho detto Costa soltanto pochi euro in più Che chissà quanto Quindi fatelo Se dovete fare l'abbonamento Fate anche questo V-Premium Vi mandano a casa L'endol Bello della GV Che praticamente serve L'endol però Soltanto per truppe di fanteria Per creature particolarmente grandi Oppure anche a volte Veicoli cararmati Ne servirebbero più grandi Però Per il 90% Della fanteria Che vi verrà inviata Con Conquest C'è direttamente l'endol Con cui prendela Tenerla ferma Presa salda Per dipingerla Limettina Per togliere Le imperfezioni Sulla miniatura E la limetta Dello stampo Che li gira tutto quanto intorno Trunchesine Per staccarli ovviamente Dalli sprue Quando le andate A staccare Per poi montarli E dipingerli Sarebbe meglio Prima dipingerli E poi montarli Comunque vedete un pochino voi E ovviamente La colla professionale Che potete trovare In tutti i negozi Di modellismo La vedete quella Col beccuccio Col collo lungo E che trovate anche Tra l'altro Nei negozi della GV Che questa è precisa Per andare anche Nelle parti più piccole Senza rischiare di A volte come quando Tutti lo facciamo Con la super attack Col beccuccio troppo grande Rischiare di andare A impregnare tutta quanta La miniatura Prossimo numero Ad esempio Nel quinto Che lo voglio assolutamente C'è un sergente Degli ultramarine Che tra l'altro Come sono fighi della madonna Io lo dico onestamente Non sono mai impazzito Per Warhammer 40.000 Preferisco 100.000 volte di più Il fantasy E non l'age of sigma Preferisco il vecchio mondo Però Devo ammettere veramente Che vabbè Sono mostri A fare le miniature Alla GV Le Space Marines Sono troppo belli Poi non piacete L'ambientazione particolarmente Ma gli Space Marines Sono tutto I Terminator Sono ancora più belli E ragazzi Che dire Questo conquest Trovate tutti i link In descrizione Vi siete fatti Due eserciti E in più C'avete un gioco A schermaglie Che secondo me Vi porterà via Tantissimo tempo E se non erro Ho sentito Mormorare Che in Inghilterra Stiano già lavorando Sulla versione Di una specie di conquest Però ambientato nel Warhammer Mediovale Ambientato ai tempi di Sigmar Va bene Comunque anche quella La farò di sicuro Quindi io ringrazio di cuore Veramente Grazie di cuore Alla Shet Per averci fornito Questa roba Dell'abbonamento premium E ragazzi Che dire Trovate tutti i link In descrizione Ma poi non vi serve Volete informarvi Uscite di casa Andate dalla prima edicola Che trovate E chiedete informazioni Per l'abbonamento Ne vale la pena Fidatemi E' un wargame Veramente spettacolare Ciao ragazzi Alla prossima